amici di motosport.com ciao a tutti è mercoledì la formula 1 è ferma ha spento i motori tutti in vacanza ma noi continuiamo a lavorare e come vi abbiamo promesso continuiamo ovviamente con le nostre rubriche come se niente fosse e questa volta abbiamo un bel racconto con il nostro riccardo cecarelli doctor formula 1 grande capo di formula medicine di viareggio allora riccardo tu torni da spa e quindi magari sei anche in grado di darci un po il senso di cosa gli hanno usato dentro il paddock visto che abbiamo vissuto una vittoria straordinaria di max verstappen ormai non abbiamo nemmeno più gli aggettivi per per commentarlo ma è effettivamente sono d'accordo con te ormai non fa più novità a questa supremazia che però vorrei evidenziare il fatto che è una supremazia ovviamente di team di red bull però c'è tanto anche di max perché se vediamo il divario di punti che a max verso perez è abbastanza impressionante quindi vuoi che perez abbia avuto un momento trasfortuna un momento in cui ha avuto un calo che ora si sembra che si stia riprendendo però dobbiamo dare a max quel che è di max ovvero io lo dico già da tanto tempo perché io ripeto io fu impressionato quando lo conobbi a 17 anni noi ci dimentichiamo che ha 24 anni questo ragazzo cioè ogni tanto dovremmo pensarci 24 anni spesso è quando uno debutta lui ha quasi 50 vittorie io ricordo quando ha debuttato a 17 anni era impressionante la self confidence e la maturità che aveva già il ragazzino quindi è difficile non attribuire a max verstappen al momento un un appellativo di uno dei potenziali più grandi della storia dell'automobilismo soprattutto dell'epoca moderna perché alle doti a tutte le doti che fanno un campione la velocità ma soprattutto un atteggiamento mentale pazzesco un atteggiamento mentale di una sicurezza mentale che pochi hanno e pochi ho riscontrato nella mia carriera in 34 anni in pochi piloti se non proprio un schumacher senna per fare due nomi importanti ma quello che che ti posso dire franco è che ho avuto occasione in questa gara di parlare un po con alcuni alcuni personaggi all'interno di red bull molto vicini a max tra cui anche il suo ingegnere di pista e quindi ho avuto modo un po di di confrontarmi con loro di di sentire raccontare storie dall'interno del garage e mi hanno confermato quello che ci siamo già detto in trasmissione più di una volta che la sua forza il fatto che lui è soltanto focalizzato su se stesso cioè la grande forza di mar di di max westappen è che è un grande lavoratore è uno che sta sul dettaglio fino all'ultimo uno che mette tanta pressione ma detto non è facilissimo lavorare con lui perché mette tanta pressione molto esigente il secondo posto è una tragedia per lui esiste solo la vittoria ma lavora tanto per ottenere questa vittoria e soprattutto non guarda gli altri non si defocalizza e non non cerca conferme non cerca mi dicono via radio non chiede mai degli altri non parla mai degli altri quando affrontano la telemetria non guarda mai gli altri non guarda mai anche i dati dei suoi compagni di squadra né in passato né ora ora è chiaro che uno dice va beh va molto più forte perché devi guardare i dati degli altri ma anche in quei casi in cui si è trovato magari dietro in qualifica lui non va mai guardarli altri si focalizza solo su se stesso col suo ingegnere lavorano solo sui dati della sua gara e e anche in gara e si informa soltanto su se stesso o dei riferimenti solo per sapere gli altri piloti con quanto con che tempi girano con gomme diverse ma perché vuol fare le sue strategie e gli dicono in queste ultime gare è apparso abbastanza evidenti dicono lasciacelo a noi fare questo perché tende anche semmai a esagerare a voler entrare anche troppo nel lavoro degli ingegneri ma questo perché ha un quando guida una tranquillità una sicurezza estrema e anche hanno confermato che non è uno che è condizionato se accanto a lui in prima fila c'è Hamilton non guarda gli altri non ha una rivalità verso Hamilton non ha un astio o diciamo delle delle antipatie verso Hamilton per lui i piloti sono tutti uguali quindi non importa chi c'è accanto lui è solo focalizzato su se stesso e questa è la virtù dei grandi campioni e quindi questo questo modo di essere questa capacità anche di gestire le emozioni che poi è quello che non lo fa non lo fa non lo rende attrattivo al grande pubblico perché concede poco è distaccato alza la mano e fa un salutino non concede non farebbe interviste cioè questo non lo fa amare dal grande pubblico lo fa rispettare per quello che fa ma non lo fa amare dal grande pubblico anche perché spa era una marea orange di nuovo e quindi riesce a muovere le persone ma è vero non scatena le grandi emozioni questo è indubbio riesce a muovere le masse con i suoi risultati le masse arancioni gli olandesi che ma perché vince non perché è un personaggio non perché concede al pubblico non perché si concede a me è rimasto impresso quando ha vinto la prima volta Zandvoort che è sceso dalla macchina ha alzato la manina e basta finito questa è stata la concessione al suo pubblico a questi muraglioni arancioni è un pilota perché sempre focalizzato su se stesso cioè non guarda non cerca mentre emilton ha bisogno di avere il plauso del pubblico ha bisogno di avere il suo entourage ha bisogno di avere le conferme lui max è molto piaciuto non queste cose non gli interessano è soltanto su se stesso col suo team col suo ingegnere e questa è una denota una forza che sai in chi la rivedo io un po degli accenni di questo genere di questa mentalità sono sono curioso io li rivedo un pochino in piastri non so se è notato come quando arrivato secondo nella gara sprint è sceso la macchina ha fatto tutta la procedura del del casco della la concessione di gioia al suoi meccanici è stata minima la sua manifestazione gioia è stata minima e mentre lui appoggiava le sue cose il casco e sullo sfondo c'era gasli ancora col casco che correva è saltato in mezzo sui meccanici è arrivato terzo ha già vinto un gran premio manifestava questa gioia in una maniera molto più evidente rispetto a un piastri che ruchi che che la prima volta che fa un risultato importante ma è sceso come se fosse la centesima volta ecco non l'ho sentito urlare via radio molto contenuto come max verstappen cioè da proprio l'idea che sono quelli che se sono lì davanti è normale lo era normale quando era in formula 3 per piastre normale quando era in formula 2 ora è semplicemente in un'altra categoria che si chiama formula 1 per lui è normale stare davanti anzi a silveston se ti ricordi è arrivato quarto grande risultato per un rookie non era contento non era contento era arrabbiato quindi è sono quei piloti programmati per vincere che hanno tanta sicurezza in se stessi e questi questo è il profilo del campione quindi piastri secondo me è molto promettente da questo punto di vista come approccio mentale il tema è particolarmente interessante ma visto che hai respirato l'aria del box red bull fammi capire giusto per dare un valore psicologico mentale la differenza che si respira verstappen l'uomo che hai appena raccontato e sergio perez che sta provando a uscire da una crisi beh certo perez ovviamente come tutti i piloti che si sono trovati ad essere a fianco di verstappen a un certo punto o ti adatti a una certa situazione o se no entri in un conflitto interiore che è quello di dubbi in te stesso di non capacitarti perché uno riesce a vincere così sistematicamente facilmente e cieco in tante gare non è riuscito neanche a superare il q3 o il q2 quindi è ovvio che perez ha avuto poi ci sono stati anche dei fattori aggiuntivi anche della sfortuna delle situazioni che si sono messe un po di traverso però è chiaro che in questo momento perez sta cercando di riacquistare una fiducia che ha perso strada facendo quindi è interessante anche questo parlando un po nel team è ovvio ma può sembrare una banalità però mentre perez si ispira molto a verstappen cerca di capire si focalizza su best app e si focalizza sul sulle sue performance è proprio questo denota il fatto che che questo è un po un secondo me un'arma doppio taglio perché una certa ispirazione puoi averla cercare di capire l'altro pilota dov'è che guadagna però poi devi lavorare guarda mi stai dicendo che guarda la telemetria di max va a vedere le camera car per capire dove mette le ruote questo è il senso presumibilmente si è questo il senso quello che mi sembra di aver intuito che ma e questo è un po normale ovviamente se io perdo la mia fiducia vado a cercare di vedere l'altro cosa fa di copiare però questo è può essere normale però preso in un senso un po più lato più ampio ti defocalizza dalle tue performance io ricordo i ragazzini giovani quando quando vai in pista dove ci sono i ragazzini giovani che cerchi di insegnare un po la mentalità alcuni ragazzini appena arrivano i box chiedono all'ingegnere che tempo ha fatto il suo compagno squadra cioè è il lavoro è per stare davanti al compagno squadra il riferimento al compagno di squadra ma questo ti fa perdere un po di focalizzazione perché prima usa tutta la sessione per cercare di capire che tempo abbiamo fatto come possiamo migliorare dove possiamo andare a lavorare quindi non guardare gli altri guarda te stesso poi dopo quando sei nella fase di analisi dopo le prove cominci a andare magari a vedere anche cosa ha fatto qualcun altro ma lo vediamo anche nel mondo della formula 3 della forma 2 anche questo sono andato un pochino nel paddock e quando parli coi ingegneri di pista o coi proprietari dei team e quando ti parlano di un pilota si mentano un po e dice è sempre andare a vedere cosa fanno gli altri cioè vanno a vedere tornano dice ma quello ha messo le gomme ma quello ha fatto quell'altro quello e questo ti porta a perdere la linea a crearti dei dubbi e a defocalizzarti non sei più concentrato al 110 per cento sulle tue risorse è un segno di debolezza è un segno di insicurezza questo mentre invece il pilota forte quello che rimane solo a lavorare su sui suoi dati sulle sue cose cerca di ottenere il 110 per cento dal suo gruppo e poi dopo dopo eventualmente guarda gli altri ma non si fa condizionare troppo altrimenti rischi di perdere la strada parlando con con davide brivio mi raccontava che valentino rossi è così valentino rossi è un tipo max best app in un grandissimo lavoratore un ossessivo sul dettaglio sul particolare ma sempre focalizzando tutto il team tutto il suo entourage su se stesso e poco concedendosi agli altri un altro che un secondo posto era un dramma non fa parte del suo vocabolario secondo posto ecco un se devo trovare nella moto una fotocopia di verstappen e valentino rossi indubbiamente molto simili parlando con davide brivio e parlando con l'entourage di max e vengono fuori due due aspetti caratteriali molto simili che sono quelli del vincente mentre invece il pilota che si ispira troppo agli altri e però poi non usa le sue risorse mentre invece magari potrebbe concentrarsi più su se stesso e tirar fuori il meglio di sé questo un po detto ovviamente in maniera semplicistica franco perché poi è chiaro che oggi quei mezzi che ci sono con la telemetria con i camera car andare a dare un'occhiata anche di quello che fanno gli altri ti può servire per avere qualche elemento in più ma non ti deve servire come destabilizzante perché allora è diverso non sono più elementi che acquisisci ma acquisisci solo dubbi in sicurezza incertezze max l'uomo che non deve chiedere mai no ti ricordi il vecchio adagio sì 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 è un po quello il fatto che che lui non va mai a guardare gli altri o a chiedersi e poi un'altra cosa che è una chiave mentale su una cosa che mi sta facendo impassire riccardo parte primo azzecca la partenza se ne va tanti saluti e grazie parte secondo in ungheria tira una staccata passa emilton e se ne va parte quindicesimo perché ha problemi non c'è uno che gli mette le ruote in mezzo si tolgono tutti eh ha senso hanno paura di eventualmente interrompere anche questa sequenza di record per cui diventi fra virgolette il delinquente della formula uno che ha rotto il meccanismo eh quando sento dire non è la sua gara ma eh ce l'ha in posizione eh cioè ti sta rubando una posizione è vero che andrà a vincere ma se poi gli tiri una staccata e fa un errore eh avrà fatto l'errore perché non si è entrati nella dimensione che che non non si deve fare eh mi viene da dire va Sir per tutto il weekend di Spa come un mantra andava ripetendo come se facesse anche attraverso i media il discorso alle clerk mi raccomando non abbiamo la macchina per andare a vincere portiamo a casa il miglior risultato un podio podio come dire non ci provare se parti in po non ci provare come la dobbiamo leggere sta cosa perché è antitetico alla storia della formula uno beh e certe volte eh un pilota è anche un po condizionato sono d'accordo con te eh perché se io cerco di ostacolare un pilota perlomeno rendergli la vita difficile può fare anche un errore può anche auto eliminarsi quindi ma nel senso che diventi anche eroe se resisti con la macchina barattolo contro il due volte campione del mondo con la macchina sublime no però quante volte sentiamo dei team radio che dicono al pilota attento c'hai max dietro non stai correndo su di lui non stai facendo la gara su di lui no quindi tante volte il pilota è condizionato cioè se fa un errore si scontrano si toccano fa un errore e dopo è si prende tutte le colpe quindi bisogna vedere che tante volte il pilota il suo istinto di combattente viene anestetizzato dal team che gli dice porta la macchina in fondo uno due ma quando parte quindicesimo sono quindici quattordici cioè è incredibile questa cosa eh quattordici anestetizzati ma in parte questo no perché a spa c'è un distinguo a spa è stato grandissimo max che è partito sesto ma lui ogni sorpasso se lo è programmato per arrivare vicino a rouge radion aprire l'ala e farlo in sicurezza sul rettilineo ok quindi niente da dire perché lì eri veramente disarmato questo arrivava con 25 chilometri all'ora in più non c'era bisogno di essere due volte campione del mondo per fare i sorpassi però se guardiamo la stagione in un ambito più largo l'abbiamo visto partire nel mucchio no con attenzione lui a evitare i guai eccetera però nessuno che è andato a sfidarlo ma è vero ma allora un po un po di sudditanza psicologica subentra nella mente di un altro pilota eh guarda che io ti dico anche perché se con la stessa macchina arriva poi Sergio Perez ecco che subito Lewis Hamilton gli tiene arrotata senza né uno né due certo ma un po di sudditanza psicologica subentra io quello che ti stavo per dire che quando io volevo farmi un giudizio su un pilota lo chiedevo agli altri piloti cioè chi sono più attendibili per darti il giudizio su un pilota ad esempio su Senna ero ancora unanime di 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 chapeau anche da parte degli altri colleghi quindi su schumacher cioè è difficile quando parlano tra di loro che non sono in un ambito che sono un ambito privato che sono che non sono in mezzo magari a a estrani o magari in mezzo ai media e sono molto onesti e te senti che i loro giudizi sono quelli più attendibili se vuoi giudicare un pilota quindi su Max Verstappen attualmente te senti soltanto dei commenti di chapeau per quello che fa di perciò un po di sudditanza psicologica quando te lo vedi arrivare dietro negli specchietti sai già che il pacchetto Verstappen macchina tutta superiore e può creare un po una sudditanza psicologica da dire da non da non stare lì impiccato a lottare per cercare di di rendergli la vita difficile questo può succedere però anche vero che le gare ormai sono programmate prima della partenza vengono fatte mille strategie il pilota con gli ingegneri con i responsabili del team allora attenzione facciamo la gara su questo l'obiettivo è quello arriva se arriva a quell'altro dietro non perdere tempo non ostacolare consumi le gomme cioè tutti questi condizionamenti ci sono indietro a un pilota e beh sì sì franco e non è più non è più la stagione romantica del del pilota che quando è c'è sono molto programmati oggi piloti c'è poco da fare poi è chiaro che ci sono dei momenti in cui l'istinto prende la il sopravvento sulla ragione però e poi noi tanti team radio non li ascoltiamo quindi chissà ma sono belli anche quelli quelli di verstappen questo questa gara qui sono stati bellissimi quelli tra l'ambiase e verstappen dove lì verstappen in gara forse è andata un po oltre le righe nella 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 sprint race dove dove stavano secondo me discutendo per davvero e l'ambiase l'ha presa male a un certo punto adesso te lo fai domenica secondo me lì è intervenuto christian horn che ha detto sti cinema via radio magari li evitiamo e l'hanno messa un po più sulla parte show tant'è che poi hanno detto erano battute non era non era tutta roba seria ma infatti faceva faceva le battute e verstappen quando diceva ma non è che magari invece accelero prendo il gap e così vi allenate a fare più stop però secondo me non sono non sono ecco su quei commenti lì forse io avrei evitato questi sono commenti un po quasi che prendi in giro il team prendi in giro i colleghi ecco quello diciamo l'unica parte che non mi è piaciuta di verstappen in perché in qualifica quando ha criticato che ha fatto il decimo che gli hanno detto ma allora falla te la strategia la prossima volta dopo ha chiesto scusa si è reso conto di essere andato un po oltre cioè questo è un team che non merita di essere messo della graticola assolutamente no quindi poi ha chiesto scusa mentre invece in gara lì ha preso un pochino troppo il ma questo è il gioco delle parti non gli stanno dicendo facci fare a noi questo lavoro lui sa che o perlomeno pensa che può dare un certo contributo e quindi cominciano un po di di queste piccole e questo piccolo gioco delle parti però a certo punto deve rendersi conto che c'è c'è un gruppo di ingegneri che fa un certo tipo di lavoro lui deve fare il pilota e quindi si può commentare qualcosa ma non è certo che può dalla macchina condizionare troppo certe scelte però di nuovo ti dà un'idea di che sicurezza in se stesso ha durante poi lo senti quando parla in gara che tono di voce calmo tranquillo come come se non stesse neanche guidando come se stesse in poltrona quindi sono tutti questi aspetti che ovviamente possiamo dire chiaro ora è nel massimo della comfort zone a una macchina che lo seconda a una situazione estremamente facile questi sorpassi a spa tutto sommato col drs con quella macchina lì erano facili quindi non è che possiamo dire che ha fatto delle cose clamorose quindi è all'interno di una comfort zone però deve stare attento a non andare oltre certi limiti beh a me ha sconvolto nel momento in cui quasi l'ha persa in uscita radion e si è intraversato e ha detto oh la stavo quasi perdendo come raccontasse una barzelletta sì sì ma vuol dire che in questo momento lui ha veramente il è tutto sotto controllo in questa fase qua e quindi in questo momento sta venendo fuori tutto il suo enorme potenziale ripeto e io ne ho visti pochi di piloti così onestamente parlando nel fatto che sono d'accordo anch'io ne ho visti pochi quindi però ti dico una cosa Senna quando guardava negli specchi e vedeva dietro Nigel Mansell diceva devo guardare tutti e due gli specchietti perché era l'unico che riusciva a riempirmi tutti e due e questo era un segnale sì sì ma vedi stiamo parlando di due grossi nomi e c'è stata un'epoca dove veramente c'erano dei nomi da Senna Prost Mansell Piquet che erano tutti insieme Rosberg è chiaro che era un'epoca diversa era meno controllata era veramente più lasciata era un po più selvaggia quell'epoca quindi anche il pilota era più selvaggio tutto poteva tutto poteva succedere quindi e c'era molto 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 rispetto tra i top driver cioè si temevano a vicenda si rispettavano e si temevano oggi 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 è è diversa la mentalità del pilota è diverso è molto più programmato effettivamente è vero sono sono ragazzi meno meno esuberanti anche nel modo di vivere e più più controllati più più professionali se possiamo dirlo sicuramente e però anche più più entro dei canali predefiniti come tipo di 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 non più come ti posso dire una volta ci si poteva aspettare qualcosa di strano di diverso oggi ci si aspetta di meno è tutto effettivamente più programmato e però diciamo i tempi cambiano e non è che possiamo fare delle critiche o rimpiangere i tempi passati i tempi cambiano questa la realtà di ora non rimpiango i tempi passati dico solo che mi auguro di vedere affacciarsi in un gran premio uno che ha la faccia tosta di tirare una staccata anche a max verstappen punto ma infatti il l'anno che io ricordo più bello è stato proprio l'anno dove emilton e max verstappen si davano le rotate perché due grandi talenti che poi spegniamo due parole su emilton emilton e sta tornando veramente con la macchina che sta facendo le grandissime cose se lo vediamo anche paragonato a russell quindi non ci dimentichiamo che che c'è anche lui e che che è un grandissimo campione quindi io spero in un leclerc in un emilton che abbiano delle macchine che possano fare un piastro di stesso di un salto avanti perché io sono convinto che a quel punto le ruotate a max questi soggetti le possono dare e le darebbero anche volentieri e non sto dicendo buttare fuori no no andare a tirare una staccata e provare a metterlo in difficoltà anche se si è diciassettesimi con il grande campione che è in rimonta per cambio motore da dietro ecco questo sto dicendo noi parliamo di ruotate si si non sto spingendo a incidenti chiariamolo perché e poi sennò vengono fuori dei dubbi di ruotate è sempre nell'ambito sport vuol dire quando nelle gt si dice le sportellate non vuol dire che si devono buttare fuori vuol dire che è la lotta corpo a corpo la lotta corpo a corpo corretta dove nessuno è in soggezione dell'altro questo è un po il concetto che vogliamo dire sono perfettamente d'accordo con te franco allora amici siamo arrivati in fondo fateci sapere che cosa ne pensate commentate siete d'accordo sul fatto che si girino dall'altra parte quando arriva max è l'uomo programmato per vincere sarà l'uomo che non deve chiedere mai oppure avrà anche lui un punto debole e ancora nessuno è riuscito a trovarlo fateci sapere a proposito cliccate la campanella in alto a destra mi raccomando così riceverete le informazioni dei prossimi video di motosport.com noi in vacanza non ci andiamo rimaniamo quindi non perdete le opportunità ci sarà ancora lo scambio con voi anche se siete al mare guardateci col telefonino ciao riccardo ti dico buona vacanza fino alla prossima puntata assolutamente sì ciao franco ciao a tutti ci vediamo settimana prossima grazie ciao 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 Grazie.